Ciro Capuano, presidente dell'ASD Montecalcio, oggi 9 settembre, sono partite ufficialmente le iscrizioni per la stagione 2019-2020. Sì, sono partite le iscrizioni, entrambi sia per la pallavola che per il calcio, qui dal campo Dainaro, proseguiranno mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18 e 30 al campo Dainaro. Ecco, tanta affluenza, le persone vogliono fare sport a Monte di Procida? Sì, sono molto entusiasta perché abbiamo avuto un forte riscontro, quindi le persone sono entusiaste sia per la pallavola che mancava da un bel po' a Monte di Procida, quindi penso che siano quasi 20 anni. E per il calcio ci rinnoviamo come ogni anno con tanti piccoli ragazzini che vengono, quindi la famiglia cresce, ci sono tutte le buone prospettive per fare un anno di grande sport. Tante le novità, l'affiliazione all'FC Giuliano, il prof Pio Astone come responsabile tecnico, tanti appunto allenatori qualificati UEFA B, insomma tanti progetti che stanno crescendo per la Monte Calcio che ha tante tante ambizioni. Diciamo noi puntiamo a crescere in modo per bene, tranquillo, con cautela, senza fare troppi passi da giganti che poi possiamo farci male. Insomma noi ogni cosa la facciamo adeguata, puntiamo a fare una scuola calcio di un livello altissimo dove il bambino più che diventare calciatore, onestamente noi puntiamo a creare un piccolo grande uomo con rispetto delle regole, del calcio e che prima cosa va bene a scuola. La prima cosa necessaria che noi puntiamo è la scuola perché lo studio è importantissimo, lo sport è importante quanto lo studio però dobbiamo mettere sempre avanti prima la scuola. Rinnoviamo l'invito per le iscrizioni? Allora io invito tutti, ci vediamo mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18 e 30 qui al Campo Reinaro, vi aspettiamo i numerosi. Anni Coppo la sceglie nuovamente per Sofio, la scuola calcio Monte Calcio, allora un'esperienza molto positiva? Sicuramente sì, sicuramente sì, è stata sia già e comunque per l'anno 2018 e 2019 e quest'anno andiamo comunque oltre, con il 2019 e 2020 per comunque questa esperienza. Ecco, il calcio è un momento di sport, aggregazione, amicizia importante per i bambini come momento di socializzazione? Sicuramente, è un punto molto comunque importante per quanto riguarda sia sport, sia stare comunque insieme, comunque aggregazione eccetera, per quanto riguarda tutti, sia noi comunque genitori e per quanto riguarda comunque anche i figli. Monte Calcio è caratterizzata da istruttori qualificati, UEFA B, quindi comunque c'è davvero una struttura importante alle spalle? I istruttori sicuramente sono il punto comunque, diciamo forte, per quanto riguarda ci sono comunque alcuni che riescono dal punto di vista sia comunque professionale a dare comunque qualcosina in più, ma anche dal punto di vista umano. E quindi forza? AS di Monte Calcio. Grazie. Antonella Lubrano è una mamma di un bambino che frequenta la scuola calcio AS di Monte Calcio, allora si rinnova questa fiducia? Sì, buonasera a tutti, è il secondo anno e sono contentissima di iniziare, mio figlio è entusiasta e spero si divertirà tanto come l'anno scorso. Uno degli effetti positivi che ha visto sul suo figlio quando ha cominciato a frequentare la scuola calcio? Guarda, mio figlio era un bambino abbastanza timido, e qui con il calcio, gli istruttori, la squadra, tutti gli amici si è sciolto molto e veramente è diventato molto più forte, si è rafforzato molto caratterialmente e sono contenta soprattutto di questo. Veramente è nata una bellissima famiglia. Quindi lo sport fa bene? Eh, fa benissimo, sì, sì. Ha la mente, ha il cuore, ha tutto. Il suo invito ad altre mamme, ad altri genitori per iscrivere i propri figli qui alla Monte Calcio, cosa gli vuole dire? Certo, io mi sono trovata benissimo e spero che vengano altri bambini e che vi troviate bene anche voi. Grazie a tutti.